Sì, hai canzato due modi. Sì, hai canzato due modi. Ma sì, perché era molto fredda quella sopra. Sotto era la laffra. Non riuscì neanche a guidare qua. Ma era così bella? No, no, qua è molto più omogenea. Ma c'è un problema. Non c'è più un donare, Giulia. Non c'è più un passaggio adesso. Urlano, urlano le ginocchia!